buongiorno a tutti amici di windows phone italia sono alessandro e finalmente torniamo colpevolmente dopo un bel periodo a registrare il podcast purtroppo o per meglio dire per fortuna abbiamo avuto diverse notizie in ballo stiamo crescendo a livelli che mai ci saremmo immaginati fino a poco tempo fa e per questo siamo stati assorbiti sia delle notizie sia da voi stessi utenti che ci inviate tantissime comunicazioni e proprio per questo ci tengo a dire soprattutto agli sviluppatori che siamo un po in ritardo nel recensire tutte le applicazioni che ci segnalate perché sono veramente tante quindi nel caso ce ne dimenticassimo qualcuna vi prego di risegnalarcele nuovamente scusate siamo nati da pochissimo e non pensavamo di fare questo piccolo boom nel mondo di microsoft italiano per questo ci scusiamo ancora detto questo torniamo agli argomenti caldi degli ultimi giorni non riprendiamo tutti gli argomenti quelli più vecchi perché non avrebbe senso è passato troppo tempo per quello parleremo più che altro delle notizie degli ultimi 4 5 giorni che ci hanno accompagnato sia sul blog sia sui vari social network allora iniziare subito con ormai la prospettiva sempre più reale che microsoft abbandoni o diminuisca il prezzo delle licenze di windows phone e windows rt problema che secondo noi è alla base del successo di questa piattaforma rispetto alla concorrenza infatti da varie stime ma anche da notizie semi ufficiose possiamo dire che windows rt costa sui 25 dollari a pezzo al produttore mentre windows scusate windows phone mentre windows rt costa fino a 90 dollari come potete ben capire è un produttore può sostenere tale spesa soltanto aumentando il prezzo del dispositivo quindi partendo già con un tablet che parte con 90 dollari o anche 90 euro di svantaggio rispetto a un tablet per esempio android che non ha licenza a pagamento è come partire già svantaggiati in partenza quindi da questo punto di vista microsoft deve fare qualcosa e per questo secondo noi adotterà o delle delle politiche di sconto oppure altre politiche difficile che ci sia un'eliminazione totale del della licenza del costo però una vera e propria diminuzione sarebbe necessaria e auspicabile detto questo passiamo una notizia che ci sta molto al cuore dato che il nokia lumia 929 sta per uscire o per meglio dire sta per essere presentato ormai tutto quello che riguarda l'hardware il software e soprattutto la distribuzione questo smartphone sarà il nuovo top di gamma di nokia per l'inizio del prossimo anno purtroppo ci sono tante notizie che lo vedono come esclusiva neanche troppo temporale di verizon operatore americano che potrebbe portarsi a casa questo lumia 929 come esclusiva per diversi mesi o addirittura per sempre quindi avendo a disposizione un dispositivo windows phone il migliore in circolazione con un tale diagonale potendo quindi tagliando fuori tutta quella che è l'europa e anche l'oriente mercato che ancora nokia non convince più di tanto quello orientale però soprattutto noi italiani che è di nokia viviamo praticamente ci dispiace molto non poter godere di un display da 5 pollici full hd di del sock snapdragon 800 e di tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto nel phablet 15 20 ma mai in uno smartphone windows phone da 5 pollici speriamo che magari esca non questo lumia 929 e lumia icon in esclusiva americana ma magari una sua variante molto vicina con nome leggermente diverso per l'europa detto questo ci troviamo sempre invece più vicini al chess di las vegas che per chi non lo conoscesse una delle più grandi fiere dedicate all'elettronica di consumo che esista al mondo viene fatta ogni anno a inizio gennaio e come sempre il mondo pc il mondo tablet il mondo windows microsoft sono tre protagonisti forse addirittura più di altre fiere del settore infatti iniziano già esserci i primi annunci troviamo i primi annunci riguardanti per esempio il nuovo tablet windows 8.1 di asus con tablet abbastanza grosso ovvero da 8 pollici ips con risoluzione 1280 per 800 pixel qual è la particolarità di questo tablet che dovrebbe chiamarsi tra l'altro vivo tab not 8 il fatto che come si capisce tra l'altro anche della parola not dovrebbe integrare per la prima volta su un tablet windows 8.1 una penna capacitiva realizzata da wacom wacom è la stessa realizza per esempio la s pen sui vari galaxy tab android che sono leggermente più conosciuti sul mercato questa è solo una delle novità la risoluzione forse non ci fa proprio impazzire però il fatto che asus punti a windows 8.1 è una notizia che per molti potrebbe essere gradita dato che windows 8.1 è compatibile con molte più applicazioni soprattutto del passato risulta essere più appetibile detto questo passiamo anche a sky go sky go che dopo essere stata una esclusiva per pochi giorni a dire la verità di nokia diventa non più un esclusiva ma compatibile con praticamente tutti gli smartphone con windows phone 8 purtroppo abbiamo contattato la stessa microsoft italia e ci ha confermato che la compatibilità con windows phone 7.8 invece non è garantita dallo stesso sviluppatore microsoft consiglio sempre di sviluppare la doppia versione probabilmente dobbiamo già ringraziare sky di almeno supportare tutti i device windows 8 indistintamente dal brand visto che sky fino adesso anche su altre piattaforme si è dimostrata essere abbastanza inclina a fare esclusive non solo temporali un'altra notizia molto importante è quella che ci parla di xbox one xbox one che sta venendo molto bene forse non come ci si attendeva all'inizio perché playstation 4 un cliente piuttosto ostico soprattutto considerando il prezzo minore della console sony detto questo però dei vari analisti e soprattutto grazie a un'infografica di ebay veniamo a scoprire come secondo le loro stime e i modelli matematici che hanno messo in campo entro solo tre anni la console microsoft ovvero xbox one andrà a costare più o meno solo 170 euro veramente un'inezia se confrontato al prezzo di 500 euro di adesso soprattutto andrà a costare meno di playstation 4 quindi se non abbiamo fretta magari aspettando già solo un anno si potrà acquistare a 350 340 euro quindi in attesa che escano i titoli altri titoli per cui ne vale la pena magari possiamo aspettare goderci ancora per un po xbox 360 magari se abbiamo a disposizione in casa un pc da gioco notizia fresca fresca di poche ore fa microsoft regala tutti gli utenti che hanno un account microsoft legato a un cellulare windows phone regala ben 20 gigabyte di spazio in skydrive la piattaforma per chi non la conoscesse in cloud di microsoft che ci consente di praticamente portare la nostra musica dei nostri file e soprattutto di avere un backup costante le nostre foto in cloud quindi sui server di microsoft essendo poi raggiungibili attraverso qualsiasi browser web qualsiasi nostro smartphone e anche pc molto comodo quindi oltre i 7 gigabyte gratuiti per tutti ci troviamo questi 20 gigabyte per un anno gratuiti garantiti poi cosa succederà dopo un anno è difficile dirlo probabilmente microsoft proporrà questi 20 giga anche in futuro difficilmente li toglierà tutto ad un tratto magari diminuirà di qualche giga però un'ottimo un'ottima mossa per incentivare gli utenti ad utilizzare skydrive incentivare gli utenti a comprare uno smartphone windows phone ed integrare tutti i contenuti su tale piattaforma un'ottima mossa secondo il nostro punto di vista ultima nota questo più un avviso se avete installato windows 8.1 sul vostro pc o windows 8.1 rt sul vostro tablet in versione preview vi avvisiamo che a breve scadrà la licenza e questa è solo un avviso per quelli che hanno installato la versione preview quelli che hanno installato il tutto da windows store invece possono stare tranquilli quindi la licenza scadrà il 15 gennaio 2014 trovate un articolo abbastanza fresco sul blog che vi consiglio di vedere se avete ancora installato la versione preview e di aggiornare cliccando sull'apposito link presente sul windows che vi rimanderà la windows store per aggiornare la versione stabile di windows 8.1 e non incorrere in problemi di sorta che dire ci dispiace ancora di non avervi offerto il podcast con più frequenza cercheremo di darvi più seguito vi raccomandiamo di iscriverci come sempre admin chiocciola windows phone trattina italia punto com per informazioni segnalazioni eccetera noi vi risponderemo nel più breve tempo possibile un saluto da alessandra per windows phone italia